Mi chiamo Vito Piombino, ho 58 anni, sono di Como. I miei problemi prima di venire nella vostra clinica sono stati parecchi e anche brutti, devo dire, come esperienza. Ho avuto sempre problemi di denti, mi hanno detto, per mancanza di calcio e la mia prima protesi l'ho messa a 24 anni. Allora, durante il primo step, che è durato una settimana, mi sono stati tolti tutti i denti sotto e mi sono stati tolti i perni che mi aveva installato l'altro dentista perché non erano idonei, non erano comunque posizionati bene, quindi ho dovuto rifare tutto il lavoro e anche lì non ho avuto nessun tipo di problema. Ho smesso di fumare, anche questo è un lato positivo perché dopo l'intervento non mi andava più, anche perché il chirurgo me l'ha detto che comunque il fumo ruina gli impianti e va bene, pienamente soddisfatto sia il primo viaggio che il secondo. Io non ho avuto nessun tipo di problema e mi ha ridato il sorriso, quindi ringrazio tutto lo staff, ringrazio il dottor Palmas e tutto qua. Dal punto di vista sociale, sì, a volte io mettevo la mano davanti alla bocca oppure evitavo di aprire la bocca quando ridevo, alito cattivo, insomma tutto quello che c'è dietro, a chi sa, chi ha avuto problemi di denti lo sa, quindi adesso mi sento molto più sicuro, molto più a mio agio. Sono felice di tornare a sorridere, mangiare, è quello che la vita ci dà.